Ciao amici, uno sguardo alla rubrica del collocamento dei piccoli annunci di Radio Bellagio. La rubrica inonda tutti i giorni sulle nostre frequenze intorno alle ore 8, 11, 18 e 20 e consultabile ad ogni ora sul web sul mio sito www.cosmobellagio.com nella sezione dedicata al collocamento. Vi ricordo anche che le vostre inserzioni sono gratuite, potete farcele pervenire via mail all'indirizzo radiobellagio.it oppure chiamandoci in redazione in orario jukebox allo 031 950 477. Ragazza laureata in biologia, cerca lavoro anche come babysitter, aiuto compiti, ripetizioni in materie scientifiche, umanistiche ed inglese in zona altolario, chiamatela al 338 25 39 291. Cerco un aiuto pizzaiolo in zona Domaso 331 905 11 45. Cane cucciolo di Bigol di 7 mesi cerca casa 33 61 35 13 09. Signora italiana si offre per aiuto domestico in zona Morbenio, Colico, Nuovo Lognio 33 39 82 95 05. Ditta Seval di Colico cerca autista con patente C e con esperienza guida autotreno 0341 940 617. Signora italiana si offre per assistenza anziani in zona Mandello, Diplomato Oss 33 93 32 32 11. Signora italiana si offre come babysitter in zona Mandello 32 88 74 96 56. Poi pizzaiolo tunisino cerca lavoro in zona Como 33 37 33 94 26. Cane settere inglese, bianco maschio di 2 anni e mezzo cerca casa e compagnia, visionabile esinolario 33 91 43 66 32. Gattino persiano maschio color grigio perla cerca casa 32 88 11 20 99. Vende una stufa Pellet, visionabile a Colico 33 31 30 99 30. Ragazza 33enne seria referenziata con 11 anni di esperienza cerca lavoro come badante Colf, convitto alloggio in zona Bellagio-Comolecco 320 07 38 01 1. Affitto in Domaso un appartamento arredato vista lago da 45 metri quadrati, si affitta stagionale oppure annuale, 200 euro al mese, chiamate il 32 85 78 57 30. e per ora è tutto, prima di augurarvi il buon proseguimento sulle fratelli,